Alla faccia del disastro, commenti a sproposito, analisi affrettate, allarmismi precoci. Dopo la disfatta contro il Mid-Hilland, la Lazio risponde presente, vince 4-0 contro la Cremonese. Doppietta e assist per il solito immobile, a un passo dalla top 10 dei migliori marcatori di sempre in Serie A. Goal e assist per Milinkovic, che diventa il decimo giocatore più presente nella storia della Lazio. E gol per Pedro, il quarto consecutivo, entrando dalla panchina. Il bilancio alla prima sosta per le nazionali è quanto mai positivo. Sette gare, 14 punti. Media di due punti a partita che a fine anno significherebbero quasi certamente Champions. Secondo miglior attacco, seconda miglior difesa. A di là delle brutte parentesi, la squadra di Sarri è in crescita costante. Non a caso, è l'unica tra le sette italiane in Europa ad aver guadagnato e non perso punti rispetto allo scorso anno. Se anche questi numeri non bastano, allora è voglia di criticare a prescindere. Intanto Sarri continua a lavorare e non se ne cura. Il campo fin qui dà ragione a lui e tanto basta.